Brexit, quali possibili scenari si possono leggere già per l'economia retina? Guardi, gli scenari per il futuro sono assolutamente difficili e complicati da comprendere. È chiaro che ci saranno delle turbulenze finanziarie importanti, ci attendiamo un aumento dei tassi di interesse e dal punto di vista più concreto anche un aumento del valore dell'oro che ovviamente per il nostro territorio, per la nostra provincia rappresenta un tema particolarmente importante. L'altra questione che riteniamo possa essere in qualche modo danneggiata è l'exporto nei confronti dell'Inghilterra soprattutto nel comparto agroalimentare, in maniera particolare quello del vino che è entrato nel mercato inglese con assoluta prepotenza. Quindi c'è una situazione in continua evoluzione e questo appunto ci lascia preoccupati per il fatto che oggi in economia diventa complicato comprendere quello che succederà da qui a breve. Quindi situazioni come questa dell'Inghilterra che non erano assolutamente previste, direi anche prevedibili, può determinare delle ripercussioni importanti dal punto di vista economico che ovviamente ad oggi ancora non comprendiamo bene quali possono essere la portata perché è la prima volta che un paese esce dall'Europa. Grazie. Grazie.